Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Io ho una grande fiducia nella scienza e ritengo che questa ormai sia una scoperta a portata di mano. L'assessore Saltamartini è fiducioso sull'accelerazione maturata grazie anche all'esperienza derivata dai vaccini anti-covid che potrebbe far arrivare entro il 2030 i primi vaccini personalizzati a mRNA contro cancro, malattie cardiovascolari e quelle autoimmuni. L'azienda americana Moderna sta lavorando i vaccini contro il virus sinciziale e contro il melanoma per entrambi i quali ha ottenuto la procedura accelerata di approvazione. La gente ci riflette molto, ci spera tanto. Cosa possiamo dire a chi ci ascolta? Siamo veramente ancora soltanto agli inizi oppure è davvero un percorso sul quale si può ottenere fiducia? Le statistiche dimostrano che il balzo della scienza per la cura delle patologie oncologiche è stato un balzo gigantesco. Io ho fiducia nella scienza, ritengo che questo rimedio possa essere a portata di mano. Peraltro l'Italia è uno dei paesi con l'industria farmaceutica più importante al mondo, siamo il terzo paese dopo Cina e India. Sul tema, Saltamartini sottolinea inoltre l'importanza dell'investimento della Regione Marche nella prevenzione dei tumori. La Regione Marche sta investendo molto sulla prevenzione dei tumori, tant'è vero che per esempio per uno dei tumori che determinano dei numeri significativi di causa di morte, il tumore alla mammella, il tumore maligno alla mammella, abbiamo allargato lo screening. Il Ministero prevedeva che si dovesse eseguire dai 50 ai 65 anni. La Regione Marche ha allungato di 10 anni e lo screening si potrà eseguire da 45 a 65 a 69 anni. Mi permetto di dire però che la visione di screening è sempre molto basso, per esempio quello sull'analisi delle feci per accertare la presenza di sangue, quindi invito tutti a utilizzare questi strumenti che sono molto importanti per prevenire soprattutto in campo oncologico queste patologie e soprattutto garantiscono al Servizio Sanitario Nazionale, alle famiglie, agli individui una vita migliore.